come ogni giovedì eccoci pronti per parlare del nostro fantacalcio su kickest della borghies league o questa settimana l'appuntamento di giovedì la settimana prossima cambia tutto perché c'è il turno infrasettimanale per cui dovremo organizzare un doppio appuntamento ci saranno più partite ci sarà più possibilità di competere per cui già segnatevelo la settimana prossima ci vedremo sia martedì che venerdì per parlare del nostro campionato adesso però dobbiamo organizzare la giornata del weekend in arrivo un weekend particolare perché usciamo dalle competizioni internazionali dunque possono esserci delle turnazioni c'è un infrasettimanale alle porte e non sarà semplicissimo definire la formazione partiamo però dal weekend scorso come è andato per voi per me bene ma non benissimo mi hanno segnato tutti e tre gli attaccanti immobile più immobile piante che e belotti solo uno su tre però ha vinto la partita piante che non ha fatto una prestazione straordinaria in più mi ha perso l'allenatore avevo puntato su douglas costa che si è fatto male subito sinceramente non avevo previsto la sconfitta interna del torino con lecce questo ha mandato un po in difficoltà la mia squadra una sconfitta tra l'altro meritata dal toro con una bellissima prestazione a livello di organizzazione di mentalità di coraggio di filosofia della squadra di liverani questa è la serie a di quest'anno questo è il nostro fantacalcio ho perso qualche posizione arrivano degli impegni complicati per cui ho intenzione per le prossime settimane di sperimentare ancora tantissimo non state a dormire troppo sugli allori se siete davanti perché il campionato è lungo questa fase iniziale serve per prendere confidenza e questo tipo di gioco permette di ribaltare tutto in ogni giornata tra l'altro sia per quanto riguarda il fantacalcio di kickest della serie a sia per quanto riguarda quello della premier league non so se siete andati a dare un'occhiata io ho fatto una squadretta anche per il fantacalcio di premier sta andando anche quella così così ma ho ottime prospettive per il futuro sono però contentissimo di una cosa riguardante il weekend scorso non sono andato benissimo io ma finalmente ha fatto un partitone il mio amico enrico erano settimane che si negava al telefono che non usciva che non si faceva trovare da lunedì sera l'ho visto praticamente tutto il tempo l'ho sempre sentito ha messo mertens capitano aveva sensi ha fatto una prestazione roboante dice di essermi davanti in classifica bisogna credergli per cui sono proprio contento per lui e vorrei che gli faceste tanti tanti complimenti perché c'è bisogno c'è bisogno di stimolarlo tra l'altro se lo gradite se mi dimostrate attraverso i vostri riscontri di essere anche voi come me dalla parte di enrico prima o poi ve lo presento passiamo però alle cose serie passiamo al prossimo weekend di campionato ve l'ho detto sperimentazione totale per quanto riguarda la mia squadra cambio un po in tutti i reparti anche perché ci sono delle partite difficili da decifrare faccio anche una serie di scommesse contando sul fatto che il turno si spalma su tre giorni quindi sarà un t1 un t2 un t3 vediamo un po cosa ne viene fuori cambio anche il portiere non perché non mi fidi di donnarumma donnarumma sta avendo un rendimento costante e molto molto positivo però c'è il derby e avere un portiere nel derby non credo che sia la scelta migliore allora piazzo una scommessa in porta prendo buffon buffon non è il titolare alla juventus però sono convinto che avrà delle possibilità di mostrarsi di nuovo con la maglia bianconera la juve ha giocato in champions league per cui magari gigi buffon contro il verona può essere schierato titolare da maurizio sarri ripeto è una scommessa ma ci provo in porta buffon e comunque mi prende un portiere titolare a disposizione un portiere titolare che giocherà nel t3 ovvero consigli del sassuolo non dovesse giocare buffon punterò sul numero uno dei nero verdi in difesa non cambio poi tantissimo avevo intenzione di farlo però poi ho guardato lo sviluppo del turno e allora ho pensato che avere due esterni di difesa arrembanti propositivi come ghiglione e luca pellegrini che giocano in anticipo di venerdì perché si sfidano cagliari e genoa può essere una chiamata interessante li confermo entrambi così come confermo it's it's è un giocatore che mi piace it's è un giocatore di spirito oltretutto è un giocatore che pur stando in difesa è offensivo nella squadra di mazzarri è il centrale che si sgancia quando ce n'è bisogno è uno molto pericoloso sulle palline attive è un leader per cui it's lo tengo nella mia rosa in difesa inserisco però due pezzi da 90 uno è kolarov che ha il bonus anche di essere rigorista e l'altro è alexandro della juventus che essendo l'unico terzino sinistro vero presente in rosa in questo momento credo debba rassegnarsi e penso anche che lo faccia volentieri a giocare con continuità per cui disegno così il mio pacchetto arretrato inizialmente kolarov in panchina ma solo per una questione di giorni vediamo cosa ne viene fuori io vi faccio il quadro della mia squadra poi lo sapete il modulo cambia dal venerdì al sabato alla domenica a seconda di tutto quello che succede rivoluzione totale anche a centrocampo a centrocampo mi tengo zaniolo che non ha giocato da titolare nella partita fra roma e sassuolo perché fonseca ha avuto l'ottima intuizione di schierare pellegrini più alto però io sono convinto che sia tutto tranne che una bocciatura per zaniolo è un giocatore che mi tengo volentieri in rosa all'inizio della stagione aveva una quotazione abbordabile per cui anche in questo caso lo tengo lì credo mi possa tornare utile perché ho l'impressione che la roma con il suo gioco brillante con il suo gioco offensivo al di là dell'impegno di questa sera in europa league possa avere continuità per quanto riguarda la produttività offensiva per cui i giocatori della roma nella mia squadra ci saranno sempre è però l'unico che confermo quattro centrocampisti completamente nuovi sempre partendo dall'idea che si gioca una partita in t1 di venerdì mi riprendo joao pedro che avevo preso per la prima giornata gli do anche la fascia di capitano visto che gioca di venerdì joao pedro ha iniziato abbastanza bene la stagione per essere un centrocampista sta su posizioni avanzate per cui lo metto nel mio roster ci metto anche chiesa chiesa mi sembra in crescita costante sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della focalizzazione mentale per cui credo sia imminente lo sblocco da parte del leader tecnico della fiorentina e metto anche lui nel mio roster nel mio roster prendo anche una sorpresa assoluta ed è saponara saponara è rientrato non ha ancora il ritmo pieno però penso che andrea zoli possa dargli qualche chance nella partita con il cagliari di conseguenza saponara fa parte della mia squadra inserisco anche lui vedremo se giocherà è comunque diciamo il quinto centrocampista nelle gerarchie del mio reparto però attenzione perché saponara è un giocatore con una qualità un'imprevedibilità e anche una capacità di essere decisivo col gol e soprattutto con l'assist potrebbe essere una sorpresa della giornata una sorpresa non lo è più ma anche in questo caso mi riprendo un giocatore scuevo puntato alla prima giornata e volendo avere un uomo nel derby ho deciso di prendermi stefano sensi perché sta bene perché è costantemente decisivo anche in champions league con lo slavia praga una sua punizione magistrale sputata via dalla traversa ha portato al gol di barella che ha migliorato un po le cose per la squadra di conte per cui sensi nel derby potrebbe accendersi chiudo con l'attacco ed è un attacco completamente nuovo ve l'ho detto sperimento mi prendo qualche rischio perché almeno due giocatori su tre non sono sicuri di essere titolari sono giocatori di squadre che hanno giocato in champions league e di conseguenza vedremo come li tratteranno i loro allenatori però ripeto è la giornata delle scommesse per me e allora la scommessa davanti si chiama paulo di bala di bala in campionato a voglia di avere spazio la juventus gioca contro l'ellas verona verona che ha fatto una partita eccellente contro il milan dal punto di vista dell'organizzazione difensiva e in generale ha sorpreso in questo avvio di campionato io avevo commentato un amichevole del verona quest'estate con il trazzanspor e fin da subito si era vista una squadra estremamente aggressiva estremamente compatta estremamente allineata ai dettami del proprio tecnico si sta vedendo anche in questo avvio di serie a meritava forse anche qualcosa di più contro il milan si può togliere il forse per cui non è una partita facile per la juventus però di bala ha voglia se di bala avrà campo contro l'ellas io credo possa essere un protagonista così come mi aspetto un napoli sull'onda dell'entusiasmo in quel di lecce il lecce come vi dicevo ha fatto molto bene però non è una squadra propriamente impermeabile dietro è una squadra che magari rischia anche qualcosa sulle marcature su palle inattiva allora potrebbe arrivare un calcio di rigore e in questo caso lorenzi insigne mi sembra l'uomo su cui puntare anche perché il gatto rischiano di non giocare mertens ha finito la partita molto affaticato contro il liverpool milic non è ancora pronto vedremo cosa deciderà ancelotti per la partita della via del mare io provo a prendermi insigne insigne dunque fa parte del mio attacco con ed in geco la roma gioca contro il bologna ve l'ho già fatto il discorso riguardante la roma di conseguenza provo a puntare su geco sperando che fonseca non voglia fare del turno ma in questo momento mi sembra impossibile pensare a una roma senza la presenza del suo imperatore d'attacco là davanti giocatore totale giocatore che segna giocatore che fa segnare giocatore che fa gioco super giocatore ed in geco altra scommessa per quanto riguarda l'allenatore l'ho fatto un po per questioni di bilancio ma anche un po per questioni di fiducia ho scelto l'allenatore del brescia eugenio corini il brescia una partita complicata e anche un po enigmatica in casa dell'udinese però è una partita esterna è una partita che i lombardi possono pensare di vincere e allora l'allenatore potrebbe avere dei bonus ulteriori il brescia viene da una doccia gelata contro il bologna una partita che sembrava vinta poi si è complicata con l'espulsione di de sena però l'ho anche visto dal vivo a san siro contro il milan il brescia una squadra che ha dei valori può andare a mettere in difficoltà l'udinese e allora io scommetto sul suo allenatore corini lo avete visto è una squadra decisamente sperimentale è una squadra che può fare molto bene può invece anche avere degli inciampi e allora la mia classifica potrebbe peggiorare ma poi c'è il turno infrasettimanale ci saranno tante cose e ve l'ho detto questo è solo l'inizio vale per me vale per voi vale anche per un esaltatissimo Enrico in questo momento siamo appena partiti ci vediamo più avanti e ci vediamo come vi ho detto martedì e venerdì della settimana prossima per parlare del nostro fantacalcio su Kikest